Io inizialmente ho dovuto un po' adattare la mia sceneggiatura, però parla degli stessi valori che avevo pensato all'inizio. Il cielo si riempia anche a niente in questo paese. La più felice di terra vivono in questo paese. E per molti generazioni il motto della loro vita è che non viagano. Ma nessuno di qui ne può vedere questo paese di terra. Viagano, e noi vediamo. E vi mostreremo a te, la reale Corea del Nord. In the rays of the sun. Io ho incontrato la gente che non sa cosa vuol dire la libertà in generale. La gente che non vive la loro vita, ma la vita imposta. E questo è che fa paura. In questo film, ci spendiamo un anno con una ragazza e i miei amici, i miei amici e i miei collaboratori. La ragazza che, in fronte dei nostri occhi, diventa parte del sistema. E il sistema diventa coautore del nostro film reale. Adesso forse la sorprenderò. Quando sono tornato a casa, ho visto la Russia come il paese più democratico nel mondo, più libero. Non voglio vivere in un mondo dove il film documentario cambia la nostra vita. I film documentari riflettono la nostra vita. È uno specchio che ti fa riflettere. Per fare tutto il suo movimento del nostro film. Ecco la storia. Si sono un po' di chiara in generale, lui è in generale che si prende la loro vita. Chiava che si prende la nostra vita... ...i davanti alla nostra vita... ...e una luna di природу... Giava che si prende la sua vita... ...e una luna di chiara... ...dove di chiara, va la sua vita... ...dove la sua vita... ...dove la sua vita... Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.